Vieni a salutare il nuovo anno come si deve. Vieni a scatenare l'entusiasmo delle feste nissene. Con spettacolo di Mr. Magic, il mago invisibile, e DJ mio cugino che mette dischi a casa sua. Achille Lauro ad Agrigento, Innegramaro a Messina, Francesco Gabbani a Palermo, Giussi Ferreri a Catania e a Canicattì si sta preparando una grande festa in piazza. E Caltanissetta come risponde? In un piccolo video di Roberto Gallà, che in poche ore sta registrando migliaia di visualizzazioni e che è stato condiviso da un massiccio numero di nisseni, si registra l'assenza di eventi in piazza Garibaldi e quindi l'amare a considerazione di una piazza deserta. Una piazza assorta nel suo silenzio, così molti nisseni saranno costretti a spostarsi per festeggiare in un clima di festa l'arrivo del nuovo anno. Abbiamo provato a contattare l'assessore Fabio Caracausi con delega eventi e l'assessore Grazia Gianmusso delega al turismo, ma non abbiamo ricevuto risposta. Grazie.